Prosegue il rimbalzo di responsabilità fra centrodestra e centrosinistra per quanto concerne il mercato del quartiere San Giuseppe di Pescara. L'amministrazione comunale in tal senso questa mattina ha illustrato le determinazioni già assunte e in programma riguardanti il cosiddetto mercatino degli ambulanti che da decenni caratterizza l'area a ridosso dell'ospedale. Quel mercato c'è dal 1988 e purtroppo non è mai stato regolarizzato fino a quando non siamo arrivati noi e a settembre abbiamo istituito il mercato di San Giuseppe anche cambiando una legge regionale e questo è stato fatto, ci ha permesso quindi questa nuova situazione di inserirci nel mercato di San Giuseppe regolarizzandolo. Oggi è stato istituito, però dall'istituzione all'attivazione occorrono dei tempi e delle procedure e noi le stiamo facendo tutte. Adesso abbiamo anche trovato la soluzione per permettere agli ambulanti che sono lì di svolgere l'attività in attesa delle graduatorie e così abbiamo chiuso il cerchio. Le polemiche le lasciamo da parte a chi purtroppo per troppi anni è stato al governo della città e non ha risolto il problema. Ma non si è fatta attendere la risposta del PD che parla di problema che si avvia alla risoluzione grazie soprattutto all'intervento della minoranza. Se il motivo del cambio di passo è grazie alla legge della regione Abruzzo, l'amministrazione avrebbe dovuto dire che il merito non è certamente della maggioranza comune ma di un emendamento sottoscritto, firmato nel primo primatario dal Partito Democratico con il consigliere Antonio Blasioli che è quello che ha consentito, che avrebbe consiglio fin da giugno del 2020 di fare il bando anche per questo mercato. Noi diciamo con la firma di oltre 600 residenti che il mercato qui ci deve stare, chi vende al mercato deve poter lavorare in sicurezza e con piena legittimità. Ma purtroppo sono state date anche tante informazioni non corrette anche a chi lavora nel mercato e sicuramente anche il confronto di oggi ci ha aiutato a capire che appunto erano delle notizie sbagliate che finalmente oggi un po' di chiarete sono fatte.